Ciò che è fondamentale oggi è saper assistere i nostri clienti nel gestire il loro patrimonio in ottica futura, guardandone la complessità della sua composizione. Sono Manuela Lagamba, da nove anni responsabile della pianificazione patrimoniale in BNL Benpe Paribas Private Banking. Prima di entrare a far parte del gruppo Benpe Paribas, ho maturato la maggior parte della mia esperienza professionale in studi legali e tributari, prevalentemente orientati alla consulenza per le imprese. Oggi mi occupo degli aspetti legali e fiscali, degli strumenti di tutela e sviluppo del patrimonio personale ed aziendale dei clienti in un'ottica di continuità generazionale oltre che di impresa. Supportiamo i private banker nella gestione di tematiche che riguardano il patrimonio dei clienti, tematiche non soltanto legate agli investimenti finanziari ma anche alle loro esigenze personali. Le necessità legate al patrimonio sono diverse in ogni famiglia e quello che ho imparato nel tempo però è che tutte hanno lo stesso filo conduttore. Il valore della nostra consulenza sta nell'aiutare i clienti nel loro desiderio di valorizzare il patrimonio, di mantenerlo e di tramandarlo. Per questo noi di BNL Benpe Paribas Private Banking mettiamo in primo piano la qualità e la relazione.